nella lezione precedente ci siamo salutati con una scarrellata di conversioni e per questione di tempistica ho dovuto interrompere così il video pur avendo ancora un esempio da mostrarvi ovvero l'utilizzo di printf per formattare una lista contenuta in un array quindi prima di proseguire per completezza daremo un'occhiata all'argomento buona visione quindi come abbiamo detto è possibile utilizzare la funzione printf per formattare l'output di una lista contenuta in un array è bene comunque precisare che di solito non è una buona idea utilizzare questa pratica in quanto la stringa template può essere sì formattata ma utilizzando un numero ben definito di elementi mentre il contenuto di una lista di un array può variare durante l'esecuzione del programma creando quindi almeno potenzialmente degli errori di formattazione ma detto ciò vediamo comunque come utilizzare printf utilizzando una lista come parametro nell'esempio ho creato l'array nomi nel quale ho inserito i valori antonio carlo e francesco dopodiché ho creato la variabile template e al suo interno ho assegnato la stringa contenente la nostra formattazione ripetuta per il numero degli elementi contenuti all'interno dell'array nomi infine stampo in output prima la stringa template contenuta all'interno della variabile template e dopo sempre la solita stringa template ma formattata con i valori contenuti all'interno della lista dell'array nomi eseguiamo lo script ed ecco qua la nostra stringa template generata dinamicamente basandosi sul numero degli elementi contenuti all'interno dell'array nomi e subito dopo il risultato della corretta formattazione della stringa generata bene ora che giustizia è stata fatta possiamo proseguire andando finalmente ad introdurre l'argomento file handle nel perl un file handle è il nome di una connessione input output tra il programma e l'esterno per creare un file handle si deve innanzitutto dargli un nome utilizzando una bear word ma che cosa è una bear word una bear word è una parola senza quotatura ovvero non racchiusa tra apici o doppi apici e a parte questo piccolo particolare possiamo chiamarla come qualsiasi altro identificatore o variabile quindi utilizzando lettere numeri e underscore inoltre è bene sapere che per convenzione quando si definisce un file handle si utilizzano caratteri maiuscoli per facilitarne l'identificazione nonostante ciò essendo per l'appunto una convenzione siete liberi di definirlo come volete ricordatevi comunque che utilizzare caratteri maiuscoli è una buona pratica successivamente bisogna stabilire se lo stream che stiamo creando è uno stream di input o di output e la relativa a destinazione o sorgente ma guardiamo un esempio per capire meglio per aprire un file handle si utilizza la funzione open questa funzione necessita di tre parametri per essere eseguita correttamente ovvero del file handle da associare al file da aprire della modalità di apertura che può essere lettura che è la modalità di default scrittura o aggiunta per selezionare una di queste modalità si utilizzano gli specificatori che vedremo fra poco infine dobbiamo indicare il file da associare al file handle nell'esempio ho creato il file handle mio file handle e successivamente l'ho associato a file 1 sicuramente avrete notato che ho passato solamente due parametri alla funzione open anziché tre come detto poco fa tralasciando il parametro necessario a stabilire la modalità di apertura ciò è perfettamente lecito in quanto come accennato prima la modalità di apertura di default è lettura quindi omettendo lo specificatore come abbiamo fatto nell'esempio lo stream verrà aperto automaticamente in lettura poiché per l'appunto modalità predefinita nel passaggio successivo incontriamo una nostra vecchia conoscenza il diamond operator come sapete il diamond operator si utilizza quando si vuole leggere degli input quindi inserendo il file handle creato precedentemente all'interno delle sue parentesi angolari andiamo ad indicare mio file handle come sorgente di input a questo punto viene letto il contenuto di file 1 poiché associato in input al nostro file handle mio file handle e il contenuto così ottenuto viene stampato immediatamente in output attraverso la funzione print una volta terminata l'operazione si chiude il nostro file handle tramite la funzione close e seguiamo lo script e come previsto abbiamo in output il contenuto di file 1 ovvero ciao ho modificato leggermente lo script per mostrarvi il modo più corretto di creare un file handle ho inserito all'interno della funzione open il parametro mancante ovvero lo specificatore lo specificatore che vedete nell'esempio ovvero la parentesi angolare a sinistra indica che lo stream creato è uno stream di input a livello funzionale lo script resta invariato ovvero esegue le solite operazioni viste nell'esempio precedente l'unica differenza è che indicando esplicitamente il tipo di stream creato ci facilitiamo la vita durante la lettura del codice infatti una delle regole d'oro della programmazione è quella di cercare di essere sempre più chiari possibile durante la scrittura del codice per evitare di complicarci ulteriormente la vita detto ciò eseguiamo lo script e come vedete otteniamo il medesimo risultato in output ovvero ciao passiamo a vedere come si crea un file handle in scrittura per creare un file handle in scrittura si usa lo specificatore parentesi angolare a destra in questo caso il file che andremo a collegare al nostro file handle non sarà più una sorgente bensì una destinazione nell'esempio creo il file handle mio file handle in scrittura e lo collego al file output punto txt se come in questo caso la destinazione non risulta essere presente essa verrà creata al volo durante l'esecuzione dello script particolare attenzione al passaggio successivo poiché è veramente molto molto interessante infatti si va a stampare la stringa e la utilizzando mio file handle all'interno della funzione print ma vediamo un piccolo schema per capire meglio che cosa sta succedendo dovete infatti sapere che di default la funzione print utilizza un file handle nativo del linguaggio chiamato stdout che è collegato in output alla periferica predefinita di output che generalmente si tratta del nostro monitor per stampare le informazioni affinché esse siano visibili indicando il file handle che abbiamo creato come destinazione di output all'interno della funzione print andiamo a redirigere il flusso di output dal nostro monitor al file di testo indicato come destinazione andando quindi a stampare su quest'ultimo anziché sullo schermo presa conoscenza di ciò possiamo tornare al nostro esempio quindi ricapitolando si crea il file handle mio file handle in scrittura e si setta il file output punto txt come destinazione dopodiché si stampa sul file di destinazione la stringa e la tramite la funzione print infine una volta terminata la stampa si chiude il file handle e seguiamo lo script come potete vedere viene creato il file di destinazione ovvero il file di testo output punto txt e al suo interno troviamo la stringa che abbiamo spedito in output ovvero e la come prova del 9 basta utilizzare questo semplice esempio dove si indica alla funzione print di stampare la stringa e la utilizzando il file handle di default std out come abbiamo detto std out utilizza come destinazione la periferica di output predefinita ed essendo il nostro monitor la periferica di output predefinita stamperà quindi come di consueto la stringa nel nostro terminale eseguiamo lo script ed eccola qua bene ora che abbiamo visto come aprire un file handle in lettura e scrittura guardiamo infine come aprirne uno in aggiunta per aprire un file handle in aggiunta si utilizza lo specificatore doppia parentesi angolare a destra questo tipo di file handle si utilizza quando si vuole aggiungere per l'appunto elementi senza andare a sovrascrivere le informazioni già presenti nell'esempio creo il file handle mio file handle in aggiunta ed indico come destinazione di output file 1 dopodiché stampo tramite la funzione print prima la stringa e la e successivamente la stringa come va chiudendo come al solito lo stream una volta terminate le operazioni di scrittura e seguiamo il tutto e come potete vedere all'interno del file 1 sono state aggiunte le stringhe e la e come va preservando il ciao già presente prima delle operazioni di stampa per concludere vi ho preparato questo esempio per mostrarvi con più chiarezza la differenza tra un file handle in scrittura e un file handle in aggiunta ho creato quindi due file handle ben distinti ovvero f handle 1 in scrittura con nomi 1 punto txt come destinazione e f handle 2 in aggiunta con nomi 2 punto txt come destinazione dopodiché ho creato due cicli for each dove ad ogni iterazione sulla re nomi che contiene i valori antonio carlo e francesco stampano tramite la feature say il contenuto della perl favorite default utilizzando rispettivamente f handle 1 ed f handle 2 una volta terminati i cicli for each stampo sia in nomi 1 punto txt che in nomi 2 punto txt una stringa di trattini per farvi vedere meglio dove termina l'operazione di scrittura sui file e chiudo entrambi utilizzando la funzione close quindi ricapitolando quando lancieremo lo script verranno creati due file di testo ovvero nomi 1 e nomi 2 sui quali verranno stampati uno ad uno gli elementi contenuti all'interno della re nomi utilizzando la feature say e i rispettivi f handle e seguiamo il tutto e vediamo cosa succede come previsto vengono creati i due file di destinazione nomi 1 e nomi 2 punto txt però se guardiamo il contenuto essi risultano identici chi si aspettava di vedere all'interno di nomi 1 solamente la riga tratteggiata si sentirà sicuramente confuso in quanto essendo stato creato con f handle 1 che è uno stream di scrittura si poteva tranquillamente pensare che ad ogni scrittura sul file il contenuto precedente venisse sovrascritto ma non funziona esattamente così infatti il file handle in scrittura sovrascrive il contenuto esistente solamente quando apre il file di destinazione quindi se si aggiungono elementi mentre lo stream è già aperto essi vengono aggiunti senza sovrascrivere nulla ma rieseguiamo di nuovo lo script per capire meglio adesso si può notare la differenza in nomi 1 punto txt non è stato aggiunto di nuovo il contenuto dell'array nomi in quanto quando è stato aperto lo stream di f handle 1 su nomi 1 punto txt il contenuto è stato sovrascritto e sono stati inseriti nuovamente gli elementi dell'array nomi mentre in nomi 2 punto txt il contenuto creato in precedenza è stato preservato e sono stati aggiunti nuovamente gli elementi dell'array nomi che troviamo infatti dopo la linea tratteggiata che viene inserita una volta terminata l'operazione bene e con questo siamo arrivati al termine anche di questa lezione per qualsiasi dubbio o domanda vi invito come al solito a lasciare un commento quindi che dire anche per oggi è tutto e niente ci vediamo alla prossima